Il secondo giorno d'Immaginerò, gli stati generali dei giovani, qui a Rovigo, com'è andato? Allora, ieri è stata una giornata di ispirazione con interventi anche prestigiosi, oggi invece è stata una giornata più di carattere tecnico grazie agli interventi appunto di Chiara Agostini e del professor Rosina siamo riusciti anche ad inquadrare quali potessero essere anche alcune possibili traiettorie di lavoro per cercare di costruire politiche assieme ai giovani. In questo momento, mentre vi sto parlando, ci sono i gruppi di lavoro che si sono distribuiti all'interno della città anche in quelli che sono i palazzi in cui la vita e il lavoro con i giovani si sviluppano, quindi l'Accademia dei Concordi, il ridotto del teatro sociale, l'Innovation Lab e quindi anche altri, questo è anche dal punto di vista simbolico, è importante perché negli stati generali vogliamo proprio che la città in modo corale promuova un'azione di sviluppo delle nuove politiche per i giovani nella città. Tante idee, tante proposte ma anche alcuni numeri, quanto sono importanti e soprattutto cosa ci dicono sul mondo dei giovani? I numeri sono fondamentali per capire la realtà in cui viviamo, la condizione dei giovani, ci sono due indicatori che ci preoccupano, il fatto che i giovani sono sempre di meno, ne abbiamo sempre di meno, quindi dovremmo valorizzarli ancora di più su tutto il paese, sul territorio italiano e invece abbiamo la più alta percentuale di NIT, i giovani che non studiano e non lavorano. Di fronte a questi dati ci sono anche altri dati, quelle delle risorse di Next Generation EU, che quindi possono consentire di mettere in atto delle politiche che aiutino le nuove generazioni a mettere in campo le loro idee e quindi a partire dalle idee dei giovani che però hanno bisogno di essere ben formati, con le competenze adeguate, con la determinazione giusta perché poi le loro idee o in un terreno fertile possano trovare le condizioni migliori per crescere e per dare i loro migliori frutti ed è soprattutto attraverso questi frutti che partono dalle idee dei giovani ma con numeri dati che poi vanno a sostegno della loro realtà e delle politiche mirate che poi tutta la società, tutta la collettività e l'economia di un territorio può crescere e creare prosperità.